Come ti chiami e cosa stai facendo? Salve, sono Giovanni, mi trovo il ciccio, Turbofior e niente, stiamo provando la resistenza di un uovo A cosa? Questo è un uovo di due mesi e mezzo, più o meno Buono, buono, buonissimo Quindi deve avere un odore, un sapore delquanto delettevoli Stiamo provando appunto, in quanto io faccio ingegneria dei materiali Sto cercando di vedere la resistenza del materiale guscio uovo Per provare questa resistenza proveremo a lanciarla sul giardino del condominio di fronte E vediamo cosa succede Speriamo di beccare il lampione ma sarà... Speriamo di non beccare le bici No, no, piccate le bici oppure il muro, visto lo dà a poco Vai giù, vai giù Ma, su, poca di... Ma, su, poca di... Ma, su, poca... Ho commentato il ferimento Allora, bisognerà andare a vedere ma credo si sia spaccato, insomma Ottimo Un volo di... quanto sarà? 10 metri 30 metri No, in linea così Starei passando anche una macchina adesso Da c'è stare Meglio che è passata adesso Ci vediamo alla prossima Per la prossima prova di resistenza Esperimento riuscito? Esperimento più che riuscito direi Ottimo Grazie a tutti